nasce il governo di giorgia meloni ed è un governo molto politico matteo salvini e antonio taiani ministri e vice premier in uno schema piramide che riunisce i leader dei tre maggiori partiti della coalizione diversi big nella squadra giorgetti nordio crosetto casellati e alcuni tecnici in posizioni strategiche ma non così centrali come si poteva pensare si tratta ora di capire se quali modifiche abbia portato il presidente della repubblica sergio mattarella nell'ora abbondante in cui ha discusso faccia a faccia con la leader di fratelli d'italia al quirinale secondo alessandra sardoni inviata di enrico mentana per diario politico che ha seguito le consultazioni per la 7 qualche casella potrebbe essere stata cambiata su suggerimento del capo dello stato bisogna capire ad esempio spiega la giornalista se picchetto fraten dato alla vigilia al mese sia stato spostato prima o dopo la salita al quirinale della meloni non sarebbe un dettaglio di poco conto dal centrodestra comunque sembra emergere una inattesa prova di forza la premier meloni ha scelto come ministri ben nove senatori segno che a palazzo madama non si temono trappole o franchi tiratori come noto infatti i ministri possono si votare in aula ma spesso sono assenti perché in missione o impegnati in impegni istituzionali e politici sono 24 i ministri del governo meloni sono 24 i ministri del governo meloni resi noti dal nuovo presidente del consiglio all'economia e finanze va giancarlo giorgetti agli esteri antonio taiani che assumerà anche il ruolo di vicepresidente così come matteo salvini che guiderà il ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili il nuovo ministro della difesa sarà guido crosetto mentre allo sviluppo economico che assumerà la denominazione di ministero delle imprese e del made in italy andrà adolfo urso il ministro della giustizia sarà carlo nordio quello dell'interno matteo piantedosi alle politiche agricole rinominato agricoltura e sovranità alimentare andrà francesco lolobrigida alla transizione ecologica rinominato agricoltura e sovranità alimentare il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica paolo zangrillo il nuovo ministro del lavoro e delle politiche sociali e marina elvira calderone all'istruzione merito va giuseppe valditara all'università anna maria bernini alla cultura gennaro san giuliano alla salute orazio schillaci al turismo daniela santanchè tra i ministri senza portafoglio vi sono luca ciriani responsabile dei rapporti con il parlamento roberto calderoli agli affari regionali e autonomie raffaele fitto agli affari europei politiche di coesione territoriale pnrr alla pagilberto picchetto fraten alle riforme elisabetta casellati allo sport e giovani andrea bodi alle disabilità alessandra locatelli al sud e politiche del mare nello musumeci alla famiglia natalità e pari opportunità eugenia maria roccella alfredo mantovano assumerà l'incarico di sottosegretario alla presidenza del consiglio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti